Salve a tutti Blazers, benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Non un episodio qualsiasi, bensì uno speciale Dieci anni dal primo video qui su YouTube Lasciate un attimo che questa idea si stabilizzi nelle vostre teste Lasciatela un po' in fermentazione diciamo Magari qualcuno di voi all'ascolto è molto piccolo e ha dieci anni Ecco, dieci anni sono davvero tanti e dieci anni fa iniziava non solo la serie di sopravvivenza Ma la mia avventura su YouTube, sul web Perché il primo giugno del 2013 uscì il primo episodio della serie Survival Il famoso episodio delle mucche che fanno mu Proprio quello con lo spawn dove appena è nato nel mondo Mi trovo l'odiata taiga con la neve sopra la sabbia E subito fu meme, incredibile Dieci anni fa è iniziata la serie di sopravvivenza E da lì poi non ci siamo più fermati Sono successo un casino di cose Passate tre, quattro vite diverse probabilmente Alti e bassi di YouTube Miei personali Di Minecraft stesso Quante volte Minecraft ha rischiato di scomparire È tornato di moda Ma la serie di sopravvivenza è stato qualcosa che ci ha accompagnato per dieci anni Sempre in maniera ininterrotta Almeno una volta a settimana In alcuni periodi addirittura tre volte a settimana E infatti siamo prossimi all'episodio 1000 Ne mancano non così tanti tutto sommato E in questo video Con questo mondo pieno di follie Villaggi, torri giganti Il castello che sto costruendo La montagna custom Un sacco di cose In questo mondo ho deciso di portare questo speciale Di dieci anni di YouTube Di mia permanenza sul web E anche della serie Facendo una cosa molto particolare Faremo un tour Che ci porterà indietro nel tempo E visiteremo questo mondo Il mondo della mia serie In dieci momenti diversi Passando per dei backup Che è conservato in un'intera decade Fino ad arrivare a uno dei backup più vecchi che possiedo Spero che l'idea vi piaccia Ma se è così Prima di tutto supportate Con un grandissimo like La serie E tutto quello che rappresenta E io ragazzi Non sopporto la pioggia Sono dieci anni Che andiamo avanti così Ogni volta Nel momento importante Si mette a piovere Basta Essendo questo uno speciale Non andremo a buildare A fare novità oggi Ma vi avviso Che alle 16 Sono in live Per continuare La build del castello Se volete Passate Il canale è in descrizione Useremo la live Per navigare un po' Nei ricordi Commentare questi dieci anni E tanto portare avanti In maniera pratica I progetti Perché qui la seconda torre Deve continuare E ragazzi Si sono stati dieci anni Ma non è finita qui Facciamone altri dieci E dopo aver cominciato il video Con il primo dei nostri mondi Facciamo subito Un salto indietro Al backup Dell'episodio 899 Prima dello speciale 900 Io non avevo idea Che avesse quittato Qui Forse è un po' scomodo Però ragazzi Sono nella mia base Della città antica Una delle tante cose Che abbiamo fatto In questi ultimi episodi È un progetto È un progetto davvero Molto figo Se posso dire Allora Proviamo a tornare Verso la base vera e propria Passando magari dal nether Così da fare anche prima Anche se non ho La più pallida idea Di come fare Ah sapete che forse Avevo fatto una ghiacciovia Qui No ragazzi Mi sa che farò Una ghiacciovia Non l'avevo ancora costruita Nell'episodio 900 Come non detto Quindi torniamo indietro volando Via Per fortuna Per me E per voi Ho un'ottima memoria E non mi sono perso Comunque ragazzi Siamo in dirittura D'arrivo Torniamo alla base Considerate che Dal primo mondo A questo backup Sono passati Poco più di 50 episodi Quindi Non ci sarà Una grande differenza Giusto? Eccoci Ora Dove eravamo rimasti All'episodio 900? E intanto Intanto c'è una Oddio Aspetta Ma Le mura Le mura Ma What? Mi sono Autosorpreso Nel vedere che Addirittura Le mura Nell'episodio 900 Non le avevo ancora cambiate Cioè Già in questi 50 Rotti Episodi Abbiamo fatto un sacco di cose Le mura E ovviamente qui Il nuovo ingresso Che manca Va bene ragazzi Scusate Mi sono sorpreso da solo Il vecchio cimitero Cioè Io pensavo che Questo primo backup Passasse inosservato Ma Già così Di primo acchito Ci sono delle cose Che non ricordavo E ovviamente qua È un po' doloroso Il castello Il castello Non era ancora nato D'altronde Non sembra Ma il castello È un progetto Dannatamente recente Ma Ora Andiamo anche un attimo sotto Perché in questo backup Secondo me Vale la pena Anche Vedere Qualche differenza Giù nel magazzino Dato che Ad esempio Non avevo ancora fatto La zona Archeologia Che poi Avrei messo Da questa parte E La Stanza Serpe verde Non l'avevo ancora Costruita Giusto? E No Non l'avevo ancora costruita Ma ragazzi Ma Abbiamo fatto In questi 50 episodi Un botto di roba Ma Incredibile Non c'era neanche Il collegamento Alle fogne Ma c'erano le fogne C'è Non c'erano neanche Le fogne C'è io ho fatto anche le fogne In questi episodi Oh Meno male che sono quello Con la buona memoria Non mi ricordo Sta cosa importantissima Non avevo ancora fatto Le fogne No vabbè ragazzi C'è ultimamente Stiamo andando Velocissimi Con le build Siamo Dei treni Andando dietro nel tempo Scoprirete che invece In passato Seguivo un ritmo Più lento Giocavo meno nel mondo Dato che Non avevo le dirette E Lavorarci off camera Era un po' brutto Quindi Passiamo subito Al prossimo Backup E torniamo indietro Di altri 100 episodi Siamo Ora Nell'episodio 799 I ragazzi Qui È qualcosa Di davvero Clamoroso Intanto Dove diamine è Il mio inventario Non lo so Ragazzi Non lo so Ma qui c'è ancora Il vecchio magazzino C'è Boh Io Ragazzi Non ho Idea di C'era ancora Questo C'era ancora Questa zona Quante cose Abbiamo fatto In questi In questa Ultima fase Di vita Della serie Di sopravvivenza Guardate qui Avevo fatto A malapena Il laghetto E il villaggio Non esisteva ancora E il villaggio È stato Un progetto Molto lungo Da fare Al posto Del castello C'era ancora La collina E In quest'area Era pieno Di strani Esperimenti Come La scala Più verticale Di minecraft Che avevo Parcheggiato qui Questa è una scala Molto strana E andare qui sopra Ci fa anche vedere Il vecchio faro Mamma mia Ragazzi Mamma mia È davvero Tutto così Diverso Ora Io non ho neanche L'elitra Però C'è una piccola cosa Da notare Teoricamente Perché In questo mondo Eravamo In 1.17 Quindi Grazie a Eren del passato Che hai mollato Pigramente Questa barca qui Sapendo che In futuro Sarebbe stata utile Quindi Stavo dicendo Essendo 1.17 Non avevamo ancora Le meraviglie Della 1.18 I biomi Delle caverne Le nuove montagne Per cui Se andiamo Da questa parte Che meme Io non ho parole Si è messo a piovere Anche qui La pioggia Trascende Lo spazio tempo Mi perseguita Nella mia timeline Lasciami stare Pioggia Eh vabbè Pure che tuona Comunque Stavo dicendo Da questa parte Ora C'è una montagna Perché poi Ho fatto generare Il mondo In modo da ottenere Le montagne Vicine Altrimenti Non avremmo Mai avuto Le bellezze Della 1.18 E questo è il mondo Prima Quindi qua c'era L'oceano Che costeggiava L'amiga taiga E niente Finiva qui La storia Un mondo Davvero Diverso Un cambiamento Forse Dei più Importanti Rispetto a quello Che vediamo Oggigiorno Mondo Risalente L'episodio 699 Uno snapshot Del 2020 Era l'ultima versione In cui è stato aperto I ragazzi Eccoci qua Avevo addirittura Il dubbio Di non riuscire Ad aprirlo A un certo punto Potremmo avere Dei problemi Ad aprire i mondi Siamo all'interno Del castello Giapponese Che è più antico Quindi di quello Che pensassi Ricordavo Fosse più recente Il castello Ma invece Addirittura Episodio 699 Probabilmente era Il megaprogetto Per l'episodio 700 Quindi qui siamo Nel vecchio mondo E mancano Un sacco di cose In questo mondo Rispetto a quello Recente E stiamo Facendo un bel Viaggetto Vero C'è una cosa Che voi Non potete notare Ma man mano Che vado A mettere I backup E qui non c'era Neanche Bilbo Oddio Guardate Dopo scendiamo Assolutamente Man mano che metto I backup Noto che Il peso del mondo Si riduce sempre di più Cioè il mio mondo Ultimamente Pesa tantissimo Ma una volta Era sempre più leggero Logicamente Quindi man mano Che sposto Diventa sempre più leggero Questa chest Questa chest Però Attualmente È ancora nel castello Non l'ho mai messa in ordine Pensate La pigrizia Incredibile Quasi quasi In live Pomeriggio Mettiamo una penitenza Tipo A tot sub Mi obbligate A sistemare le chest Anche questa è stessa cosa Comunque E ragazzi Usciamo dal nostro castello Abbiamo i razzetti Yes E questo Eren Del passato Era attrezzato Ragazzi Questa era una Basetta Punto panoramico La spina di ghiaccio C'era Le rotaie No vabbè ragazzi La La zona Dei sub Che la faceva in live Quella cosa lì Vabbè Raga Cioè Che chicche incredibili Questo c'è ancora Solo che ora C'è un'intera montagna Sopra di lui Qua non avevo ancora costruito Neanche la montagna Più piccola Mamma mia Costruire quelle montagne È stato Davvero complicato L'idea Di non vederle fatte Qui fa davvero male Ma so che Le ho già costruite Il me del futuro Le costruirà Eren del passato Tranquillo Trasta E da questa parte Quindi C'è ancora Ovviamente la vecchia farm Ma la farm È una cosa che abbiamo cambiato Super di recente C'era ancora La zona del nether Ma dai Con questo effetto ottico Che Era una bella idea Però poi L'area in sé Era un po' una ciofeca Quindi dai Abbiamo fatto bene A toglierla Anche perché Ci stiamo facendo Un castello Ora Dopo diversi Cambiamenti in zona E guardate qui Il vecchio giardino La fontana Robot La vecchia casa Che non era Che in realtà Avevo già copiato Lì sopra Perché c'era anche qui Strano La vecchia farm di ferro Con il golem A sorreggerla Ragazzi Dobbiamo assolutamente Entrare in casa Cioè qui Non avevo ancora Rifatto il giardino Altra opera Mastodontica E ovviamente Qua È così Qui c'era già La discesina Con misfatto E qua E qua Non si apre Ragazzi Sapete perché Non si apre Perché non c'è Il magazzino nuovo Non c'è la caverna Che male Pensare di non averla E qua Mancano un sacco Di passaggi segreti Di cose secondarie Che poi abbiamo fatto E questa è la nostra base Con Appunto Il vecchio magazzino Terribile Che poi è stato rifatto Mi ricordo Quando l'abbiamo rifatto C'era Gente in lacrime No Ere Non farlo È storico Ragazzi Ci siamo pentiti Direi di no Questa stanza Boh È una stanza Che avevo fatto Per contenere Le nuove tavole Da lavoro Scomodissima Da utilizzare Ma c'era il mappamondo È stata totalmente Rimossa Per far spazio Poi Alla camera da letto E Qua Ragazzi Pesa La vecchia casa Il bagno Che comunque Era già Interessante E poi scendendo Avevamo La base Precedente Anche questa direi Nettamente migliorata Giuliano è già un fatto Nel corso di questi anni Si sono spostati Di neanche dieci blocchi Bravi Più pigri di me Sicuramente Lo sentite Questo verso? Gaston 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 è vivo Gaston Ma quanto tempo Ma che bello In questo backup Gaston era ancora vivo Non ci aveva ancora traditi E non avevo Dovuto terminarlo Praticamente A un certo punto Il mio gast Intrappolato Aveva iniziato a sparare Palle di fuoco Contro la base E ho dovuto ucciderlo Gaston Che gioia Incredibile Rivederti Prima o poi Dobbiamo prendere Un altro gast Troppo figa Sta cosa Comunque ragazzi C'erano ancora le spade Lì sopra Le farmi in mezzo Le palle Questo è l'episodio 600 Siamo tornati indietro Di altri In questo caso 99 episodi Ma poco cambia Vecchia statua Il giardino Era una volta Era un completo Disastro Davvero Davvero Un macello E anche la base La base Era ancora così Wow Mi ricordo che All'epoca Già C'era ancora La faccia dello zombie Va bene Non so neanche Dove entrare Per arrivare in casa Adesso cerchiamo di capire All'epoca Dicevo Avevo già un sacco Di commenti positivi Di complimenti Per Quello che costruivamo Per il mondo Pensate Che miglioramento Drastico Che c'è stato Ecco Un problema Di questo mondo Era A proprio Gaston Che faceva un casino Terribile Cioè lo sentivi A distanze siderali Lamentarsi In continuazione Ma ora In questo mondo Non possiamo Non guardare Una cosa importante Lo sapete La vecchia camera da letto Che hit Ragazzi La vecchia camera da letto Sopra L'acquario Quella di adesso È 20 volte più bella Ma ogni volta Che rivedo questa Un po' di nostalgia Devo dire che c'è Zacchan Era già mezzo impazzito Ci fa piacere Saperlo E se usciamo fuori Chiudiamoli anche le porte Possiamo notare che Quella torre Che adesso devo abbattere Perché sarà antiestetica Dietro Il castello C'era già Ecco Quella torre Vi farò vedere Quanto è antica Per farvi capire Perché è così Grezza e bruttina E Da questa parte Non c'era il castello Giappo C'era solo il primo Quindi siamo tornati davvero Molto indietro nel tempo Guardate qui E si torna All'episodio 500 A metà strada Dal grande obiettivo Che abbiamo ora Dei mille Guardate là La farm del nether Nell'overworld Una delle farm più brutte Che abbiamo mai fatto Devo dire la verità Esteticamente Per carità Però Davvero Inguardabile Le sette meraviglie C'erano C'era già la torre E c'era anche L'alto grattacielo C'era già anche Il portalone tori Quando l'ho fatto Questo è anche Bello vecchio Comunque ragazzi Siamo Nell'episodio 500 In pieno godimento Della 1.13 Che qui non si vede Perché Il mondo Comunque Era generato Anche Ancora Con vecchie cose Però Tridente Vedete E il metto Aveva un po' di Robette Della 1.13 E se scendiamo Oltre a vedere Questi Strani Archi di legno Che avevo rimosso Davvero Bruttini C'era ancora Il sistema Delle rotaie Senza cart Ma Andiamo comunque A vedere all'interno Questo fu Il mio primo Sistema di trasporto Guardate Che roba Grezza Avevo solo scavato E piazzato le rotaie Così Malamente Però era interessante Perché Aveva Diverse fermate E una tratta Portava al portale Dell'end Che Insomma Qui avevo già L'elitra Quindi non serviva Molto Però Diciamo che Prima del periodo Elytra Tra l'altro Qui probabilmente Avevo già sigillato Dei pezzi Prima nel periodo Elytra Era utile Avere un sistema Di rotaie Nei mondi Di minecraft Adesso è diventato Un po' Una roba Vintage Roleplay Però una volta Erano davvero utili Giuro Anche qui Tutto è estremamente Diverso Perché chiaramente Ho di recente Modificato l'aria E la vecchia farm Ve la faccio vedere Solo ora Ma nel corso degli anni Non era Stata modificata In granché Sì avevo cambiato Il soffitto Però Poca roba Sapessi Ora invece L'abbiamo rifatta Ed è tutta diversa E qui Ragazzi Le vecchie scale La testa Dell'ender dragon Che fa Bla 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 Il muro Delle freddure Che prendevo Dai commenti E scrivevo Tipo Wuff Giuliano mi ha detto Di scrivere questo Non esattamente Era freddura Ma Quei due sassi S'assomigliano Cioè Capite no Il tenore Delle battute Logo Tra virgolette E B Per Farci avventurare Verso la base The secret of blazers La porta che è ancora lì E questo è l'interno Eh Giuliano Tu mi guardi così Hai già fatto Però Una volta Questa era la base Lo so Mamma mia ragazzi Mamma mia Shulker abbandonata Anche nei vecchi backup Logicamente Se andiamo al piano di sopra Perché anche qui Nel tempo Si è cambiato molto C'era ancora il parkour Questa era l'area Della casa Dedicata a Giuliano Con la sua cuccia E Gianfatto Che stava lì sopra E l'idea E che c'era una sorta Di parkourino Da fare Per raggiungere Le parti superiori Un'idea un po' Del cavolo Però qui c'era La cuccia di Gianfatto Ad esempio E vabbè Ragazzi Questa era la vecchia base Con La mappa Immersiva Che comunque Spaccava abbastanza E ora è cambiato tutto Perché si 100 episodi Sono tanti E ora Abbiamo già fatto Un altro salto indietro Benvenuti Nell'episodio 399 La vecchia vasca Mamma mia Mezzo alle palle Ma pur sempre bella I ricordi Stanno un po' Scomparendo Devo dirvi la verità Qua non c'era ancora Ah no La scala c'è Più giù La Vecchia farm Ve la faccio vedere al volo Più andiamo indietro Più è difficile Cogliere le varie differenze Portate dal tempo Quindi Questo backup Voglio Porre un attimo L'attenzione Su una cosa Che per ora Non abbiamo guardato Perché non solo Il mondo è cambiato Anche le cose A cui eravamo affezionati Come ad esempio Gli oggetti E qui abbiamo Bankai Una delle mie vecchie spade Bubble killer Gravedigger Break Everest Gli ali della libertà Il teschio di blaze Zampe di blaze Artigli di blaze Insomma Un po' di robette Le mie shulker La shulker rossa Non so se è la stessa Che mi porta ancora dietro Però potrebbe anche essere Sapete Insomma Guardate Il lampadario Fatto con l'apislazzulo E Il raggio del beacon Tutto strano Decentrato Che poi ho Fixato Con il sudore E il sangue Mamma mia E ragazzi Hit totale Qui c'era ancora La vecchia farm Di mob Che è quella lì Nascosta E I suoi drop Venivano condotti Tramite l'acqua Qui sotto E andavano Direttamente Nel magazzino Quindi se noi scendiamo Nel vecchio magazzino Questa Bruttissimo O estremamente Vintage Non saprei come definirlo E questo è il mio primo passaggio segreto Che ci accompagna Da un sacco di tempo E c'era anche All'epoca Ed è interessante Vedere che Credo che questa leva Sia rimasta sempre Nello stesso punto E di fatto Le cose Non cambiano Neanche Al backup Dell'episodio 300 Il passaggio è sempre qui La mob farm È qui sopra E c'erano Delle rotaie Terribili Che portavano Alla Iron farm Delle rotaie Per la iron farm Allora Devo dire che C'era già il wall Maria Quanto è vecchio Sto muro Ma io non pensavo Fosse così tanto vecchio Questo muro Sapete che Inizio a sorprendermi Alcune cose Le ho modificate Molto velocemente E le altre Non le ho toccate Per troppi anni Comunque Era abbastanza brutto È abbastanza brutto Vedersi Questo sistema Di ferrovie Però concettualmente Quando furono costruite Era figa L'idea Di avere Tutti sti ponti Incrociati Che interconnettevano Diverse parti del mondo E sì Sto cercando Di vendere bene Quest'idea Quando Quella rotaia Trapassa di brutto Un tronco d'albero Ma Dai Non è che sia così Sbagliato Concettualmente L'isola a volante C'era già I pianeti C'erano E Inizia a sembrare Tutto davvero Antico E a sbloccare Ricordi Che non pensavo Neanche più di avere E ragazzi Mamma mia Ho visto una cosa Questa Questa è clamorosa Non siete pronti A vederla Al di là Del vecchio muro Cioè Non si può neanche Chiamare muro È una siepe Ma Aveva la porta Automatica Che adesso Non l'ho più messo E ragazzi Qui dietro La mia Prima E forse unica In realtà C'è una testa di drago Da un'altra parte Però Statua di drago Che Ho fatto nel mondo Qui c'era una Farmie Villager Che funzionava Da dio Come vedete E qui c'era Un drago Scheletrico Che con una spada Tagliava In due La collina E voi chiederete Perché Non lo so È anche incredibile Riuscire ad aprire Dopo tutti questi anni Questi mondi E poterli visitare Nelle nuove versioni Pensate anche Alla lungimiranza Che ho avuto Non so neanche perché Nel decidere Di salvare Dei backup Così vecchi Per tutti questi anni Però ogni tanto Tornano comodo Per fare Questi episodi Speciali Il vecchio castello Giappo C'era già E magari Merita anche Una piccola visita Mentre se andiamo Da questa parte Volevo prima Dare un'occhiata Alla zona qua sotto Buon Halloween 2013 Null 2013 Buon Halloween 2013 C'è Capite Quanto è vecchio Questo cartello Che tra l'altro Non credo ci sia Neanche più Purtroppo Qui abbiamo Il vecchio portale Del nether Non del land E ragazzi Dopo dieci anni Possiamo ancora rispondere A questa domanda Metterai il mondo In download? No C'è sempre stato Questo no E rimane Nei nostri cuori Il portalone Tori Che poi ho costruito Qui non c'era Quindi stiamo andando Davvero molto indietro Nel tempo Se vi chiedete Perché prima C'era null Nel cartello C'era una creepypasta Una volta Di questo personaggio Chiamato null Che invadeva i mondi Lasciando il suo nome Sui messaggi Sui cartelli In realtà in un update Molto vecchio Avevano Modificato i cartelli E dove avevi lasciato Una riga vuota Compariva la scritta null Che significa proprio Vuoto Cioè la riga è vuota Un piccolo errore Che venne utilizzato Per creare Questa creepypasta Quel cartello Non era Una creepypasta Voluta Cioè si era generato In automatico Il Il testo Con la scritta null Qua sotto Un tentativo Di una farm di slime Che non ha avuto Mai successo Il casino Incredibile Siamo Nel backup Dell'episodio 200 E chi si ricordava Che avevo staccato qui Io no di certo Ero nella farm di enderman Farm Che fornisce Gratuitamente Esperienza Infinita Da Molti anni Qui eravamo nel 2015 Quindi immaginate E dal 2015 Questo ponte Pericolosissimo Che avevo fatto Non è mai stato modificato E mai lo modificherò Pensate un po' Che Ho rischiato la vita Infinite volte E la sto rischiando Anche ora E per pigrizia Non ho mai fatto Un ponte migliore In realtà c'è anche Un altro motivo Spero ancora Che prima o poi Arrivi l'end update E chissà Io ormai ho smesso Di Credere nei sogni Ma magari la 1.21 Sarà la volta buona Boh ragazzi Però Quando arriverà L'end update L'end andrà Resettato Per avere Ipotizzo Nuovi biomi Strutture E blocchi Quindi È inutile Lavorare al land Se tanto so Che prima o poi Lo andrò A cancellare Lo dico Ogni anno D'anni Però Per sicurezza Continueremo così Finchè Non mi daranno Il dannato End update Ora Torniamo al portale E vediamo dove ci porta Non so neanche dove Ho fissato il letto Anche se forse Nell'episodio 200 Avevo ancora La vecchia Vabbè Titoli di coda Ok Esatto La vecchia stanza La mia prima stanza Guardate Che bella Così piccola E così Povera di dettagli Però Qua entra in gioco Una scusa Che non è una scusa È la verità Ora Siamo tutti buoni A fare i super fighi Con minecraft E fare delle build esagerate Vedete anche come Ho cambiato il mio stile Ma una volta Oltre all'esperienza Mancavano i blocchi Non c'erano tanti blocchi Non c'erano i derivati Cioè sono dieci anni Sono passati All'inizio minecraft Era un altro gioco E per buildare Dovevi usare Materiali poveri La cobblestone Il legno Con il solo derivato Di quercia Le cavoli di botole Porte di quercia Ovunque Perché non c'era altro Però In qualche modo Si faceva In qualche modo Abbiamo creato lo stesso Dei paesaggi A cui ci siamo affezionati E il no In questa versione Era in mezzo al giardino Un po' scomodo Però guardate qui Eren Metti la mappa in download No È incredibile Pensare Che all'epoca Mi chiedessero Già in moltissimi La mappa in download Quando in questa mappa Non c'era quasi niente Cioè avevo buildato Già i pianeti Le cose Quindi diciamo un po' Il marchio di fabbrica Quelle particolarità C'erano già Quindi ci sta Che fosse interessante Il mondo Di gioco Però Cioè immaginate Averlo adesso Con tutte le novità Che ci sono E il castello Giappo ragazzi Qua già c'era Cioè il castello Giappo È antichissimo Il vecchio con la pipa La montagna a forma Di vecchio con la pipa Che bel viaggio Questo video Sono proprio contento Di averlo fatto E sono contento Di averlo fatto Senza Aprire i mondi Prima Cioè li sto aprendo Ora in diretta Per assaporare Al 100% I ricordi Insieme a voi E andando da questa parte C'era già il cimitero Degli erongole La rotaglia di cui vi parlavo prima La farm nella sua vecchia forma E non si sa come Dei maiali sponati Su un abete Della mega taiga Vabbè Comunque Ah il tempio La statua moai La statua mia Il faro L'isola volante Non ricordavo che tutti questi elementi Già esistessero All'epoca E qui mancava giusto Un satellite Quello poi Fatto di magma Che giustamente Aveva dei blocchi Aggiunti nella 1.13 Quindi non potevo neanche farlo In questo momento Almeno Se non ricordo male Il magma blocco Arrivò proprio in 1.13 No Non è vero Il magma blocco Arrivò in 1.10 Il frost Burn frost update Come si chiamava Frost burn update Vabbè Fatto sta Che Non l'avevo ancora fatto Ora La base È piena di stanze Di Intricati passaggi segreti Di Stanze segrete E Oddio Lo slime block È nascosto L'infarto Che mi sono preso Io avevo costruito Sta cosa Per scendere Direttamente Nel sottosuolo Mi sono autotrollato Dopo Dopo anni Ok C'era uno slime block Siamo salvi Questa era la vecchissima miniera E Stavo dicendo È cambiato davvero Tutto Troppissimo E con l'ultimo salvataggio Andremo In uno dei miei backup Più vecchi Dove Potremo vedere Davvero L'inizio della montagna L'inizio della base L'inizio di tutto E Ragazzi Qua è davvero tosta 29 novembre 2013 Versione Sconosciuta Non c'era neanche la foto Al mondo Si aprirà O no Questo backup Io spero proprio di sì E andiamo quindi A finire Sponando Già con Pochi cuori Non so cosa sia successo E senza armatura Peraltro Pericolosissimo Con L'episodio 40 E ragazzi Qui Siamo molto vicini All'inizio Di tutto 2013 Guardate Non c'era Niente Non c'erano le mura Il wall maria I due maiali Però c'erano Ma che Ma che ci fanno Sti maiali Ma io devo Guardare se sono ancora lì No è impossibile Perché ci sono Sempre sti due maiali Dappertutto E ragazzi La base Era in fase Di costruzione Ma ancora Non c'era niente Guardate il tappeto Con scritto EB Sono saltate Sono saltate Alcune mappe Purtroppo Vediamo se Ok Possiamo ricomporle Tranquillamente Guardate La base Una volta era così C'erano i sentieri Appena appena Scavati Anzi Non erano neanche I sentieri Era tipo Gravel Presumo La banchina E il porto Che volevo fare Dall'inizio Della mia avventura Non l'ho ancora fatto Incredibile La mob farm Che c'era già Zona giappo Non ne parliamo Non esisteva Oh E qua Non c'è neanche l'uscita E' vero Però il magazzino Il vecchio magazzino Nella sua forma primordiale Già esisteva E che dite Mi mangio sta mela d'oro Mangiamoci sta mela d'oro Ha aspettato dieci anni E guardate qui Un blocco piazzato Da un enderman Che palle Questi enderman Qui mi buttavo Per andare direttamente Giù nella Miniera E invece qua Il cestino automatico Esatto Con la lava E' incredibile Ed è anche Estremamente disorientante Jack DePlant E' diventato Un cactus Ma com'è possibile Ma E' una felce lui Che è successo Con questo Con questo aggiornamento La camera da letto Ancora vuota Incredibile Questa camera da letto E' più piccola Del mio vecchio studio Nella realtà Perché era così piccola Perché era così piccola La farm Che c'erano tutte le coltivazioni Cane da zucchero Cactus Farm ovviamente Mai nella vita Automatiche Il no nel giardino All'inizio Di chi c'è da qualche anno E anche chi si è appena iscritto Perché no Siete tutti importanti Vi ringrazio tantissimo E ci vediamo In live Alle 16 E domani Con il prossimo video Un saluto da Eren Ciao 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 Ciao